Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Due minuti due, conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo affondamento con due minuti due da Maria Concetta Goldini, saluta a tutti gli ascoltatori. Comprensibile la reazione a caldo, subito dopo una condanna con l'invito abbreviato a un anno e due mesi per la vicenda delle false sponsorizzazioni a società sportive. L'imprenditore Maurizio Melfa si è dichiarato innocente e ha incassato con dolore di amarezza il verdetto annunciato l'addio al mondo dello sport e quindi le sue dimissioni dalla società di basket, l'addio alla diqualificazione in corso del paralivatino e agli aiuti alle società sportive. Lascia pure l'ingarico di consulenza gratuita affidata agli da sindaco Lugio Greco. Una decisione a caldo, dicevamo, comprensibile e corretta sotto certi punti di vista perché tanti altri coinvolti in gravissime vicende sono rimasti attaccati invece alle polprone. Ma Melfa, passato il momento di dispiacere, dovrebbe ritornare sui suoi passi. Ci sono altri due gradi di giudizio per stabilire bene come sono andate le cose e per far valere le sue ragioni. E lui, che se sembra dichiarato fiducioso nella giustizia, dovrebbe sapere attendere. E se veramente innocente come dice di essere, dovrebbe continuare nella sua azione di sponsorizzazione nel mondo dello sport, come sempre fatto. Se di nulla si è macchiato, se ha la coscienza pulita, da questa coscienza dovrebbe farsi guidare. E smaltita l'amarezza, dovrebbe continuare per quella stessa strada di prima, non penalizzando la città che nulla c'entra in questa vicenda, ma dando anzi alla città gli aiuti di cui ha bisogno. Al prossimo appuntamento. Due minuti due, fatti e commenti in centoventi secondi di Maria Concetta Goldini. Due minuti due, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Due minuti due, nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi, con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyCli. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza, o per originalissimi regali, li trovi alla farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga, a garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla farmacia Pintaudi c'è il servizio Chiedi, Invia e Ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 1895 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 1161. Le farmacia Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medi Group Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medi Group Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medi Group Construction, via Venezia 372, Gela.